Breve pellegrinaggio di una delegazione dell'Aias di Gela verso la Porta Santa aperta lo scorso 6 gennaio con una solenne cerimonia in occasione del Giubileo della Misericordia. Si è svolto oggi, è stato il culmine della giornata di preghiera che è cominciata con la celebrazione della messa nella Chiesa Sant'Agostino. La delegazione di pazienti Aias è stata accompagnata dal Presidente Anna Maria Longo e dal direttivo con parte dell'equip medico-sanitaria. Dollino ci ha fatto questo regalo facendo riunire tutti i ragazzi dell'Aias ad attraversare la Porta Santa. Dal momento che ha saputo che non siamo andati a Roma lui ha voluto che noi attraversassimo pure la Porta Santa come se fossimo andati a Roma. È una cosa molto bella, un gesto molto bello da parte di Dollino e una cosa bella per i ragazzi che non hanno mai attraversato la Porta Santa. Questo cammino giubilare al quale partecipano varie situazioni cittadine segna la preparazione dell'apertura del centro di spiritualità e del dormitorio per le famiglie disagiate e gelesi presso il Convento di Sant'Agostino che si svolgerà domenica 13 novembre alle 10.30 con la celebrazione eucaristica che sarà preseduta dal Vescovo di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana. Quel giorno si chiuderà la Porta Santa nella Casa della Misericordia concludendo l'anno santo così come stabilito da Papa Francesco. Viviamo questo momento giubilare insieme ai nostri fratelli disabili come momento di gioia perché loro sono coloro che ci conducono anche al Signore guardando loro, toccando la loro carne, noi tocchiamo la carne di Gesù. Abbiamo voluto insieme all'Aias fare questo momento a conclusione del giubileo per dare questa spinta anche perché sappiamo bene che le porte non verranno chiuse perché il Papa vuole che si continui questo giubileo attraverso quello che è l'assistenza ai poveri e agli ammalati.